calzate questi sui parenti no no ok no per passare a riaprire la portiera e a riaprire la portiera no è lei non è buona a guidare questa è quella che dice hai tutta la flessione perché il bello è che fuori non avano le patenti è l'italia che va, apre la portiera e chiude la portiera no ma sta a far penare la macchina io posso dare una mano perché la macchina mi piace che sta a soffrire e non è convinta e a lei no no questa sta qua tutto il giorno no no se era mia ti hai aggomenato apre la portiera e chiude la portiera no signor non c'entrava ho visto da prima ho visto da prima non c'entrava